Stiamo già lavorando ad una grande mostra che abbiamo appena annunciato, retrospettiva dedicata ad un altro grande artista napoletano che è stato un po' l'ambasciatore, se volete, di Napoli in Italia e nel mondo, della sua storia millenaria, del suo essere sempre una nuova città, Neapolis e di questa regione straordinaria, Mimmo Iodice. A Mimmo Iodice dedicheremo la prima retrospettiva dagli anni 60 al 2015, sono più di 50 anni di carriera, questo splendido 82enne che ci farà fare un viaggio dal ventre di Napoli alle rovine di Palmira, ci farà fare un viaggio dai millenni scorsi fino alle megalopoli contemporanee, passando attraverso una storia che rende Napoli internazionale anche grazie ad artisti come Iodice che la sanno rappresentare e la sanno presentare a tutto il resto del mondo.